Umiliante per la squadra di Zavettieri, può partire il filmato, fuori da tutto ormai in questo campionato. Ennesima battuta d'arresto per l'undici rosso e blu che perde al fattori contro il Grosseto. Dopo le ultime sconfitte che l'hanno estromessa dai playoff, la squadra è scesa in campo senza chiedere più nulla al campionato. Maggiormente motivato il Grosseto ancora alla ricerca della matematica salvezza. Primo tempo giocato come vediamo su ritmi bassi, le uniche occasioni da rete infatti sono di amare mani, soprattutto con Pircman. In una ripresa infatti escono fuori gli ospiti grazie a un calcio di rigore trasformato da Pircman. Lo vediamo, Carini infatti commette fallo sull'ispirato attaccante che non sbaglia dal dischetto. Il rosso e blu a quel punto in inferiorità numerica non impensieriscono più gli avversari e salutano purtroppo nel peggiore dei modi il pubblico amico. Questo è il replay del montaggio di Cesare Colette e il gol di Pircman. È davvero tutto, torniamo quindi in studio, lasciamo la Lega Pro e invece passiamo alla serie.